Ciao a tutti, sono Mattia per l'amiche più intime ZWWT Sexy Champion. Che bello, eh, questo improvviso cambio di rotta? Ora la WWE ha un nuovo campione. E che campione? Immagino che molti non siano stati d'accordo con la mia decisione di incassare la valigetta subito dopo il main event del Mono in the Bank vinto da Maurizio Merluzzo, però cercate di capire. Ho semplicemente agito come avrebbe fatto chiunque. Ho sfruttato a mio vantaggio la situazione per diventare il nuovo campione. Cosa c'è di male in questo? D'altronde anch'io avevo terminato un estenuante ladder match poco prima della mia rapida sfida per il titolo. Quindi sappiate che non accetterò critiche o rimproveri su quanto il mio comportamento possa essere sembrato, leale o meno. Io non devo chiedere assolutamente scusa a nessuno. Ah, caro Matioski, sono contento di sentirti dire queste parole. Finalmente un campione che si prende le responsabilità delle proprie azioni. Hai ragione, incassare il Mono in the Bank in quel momento è stata una scelta molto furba. Ma come puoi ben immaginare, ora tutti noi vogliamo sapere come sarebbe andato a finire l'incontro, in condizioni normali. Suppongo che tu non abbia nulla in contrario, giusto? Un rematch fra te e Maurizio Merluzzo. E tanto per non farci mancare niente, dovrai affrontare anche il tuo vecchio compagno di team, al quale, diciamocelo, hai giocato davvero un brutto tiro al pay per view. Ma per ristabilizzare la parità numerica, ti servirà un compagno. Che ne dici del vecchio campione? È deciso allora. Stasera ci sarà un tag team match che vedrà Matioski e Zeb contro Pallonf e Maurizio Merluzzo. Restate con noi e buon proseguimento di serata a tutti. Wow 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 amici appassionati di Wrestling. Benvenuti alla nuova puntata di Monday Night Call. Ne vediamo entrare il Super Saiyan Dario Moccia. Sì. Inguardabile. Vediamo che il nostro culo gli vuole molto bene a Dario Moccia. Vabbè comunque entrare il Super Saiyan anche. Vediamo chi sarà il suo avversario prima di tutto. Attenzione è tornato il Dr. Game però penso che faccia la manager a Farenz. Dopo un lungo infortunio non si sa bene a che cosa. Aveva lasciato Farenz solo mi ricordo l'altra volta. In balia dei suoi due avversari, pallone Matioski. DIO! E' vero, c'è anche messo la maglietta all'angolo stavolta. Attenzione comincia il match. E basta la Farenz. C'è idea? Un backboard da parte del nostro amico che babbardo. Tu amico che babbardo. Amico, è sempre amico. Sempre amico. Fai gli sconti sui kebab? No, lo ricordiamo, due macchine distrutte eh. Non vorrei essere sui panni. Vabbè, se le meritate. Ha fatto una cosa che non doveva fare durante il suo match. Comunque commentiamo questo. Vabbè, ma gliela distrutte prima del match. Vabbè, dettaglio. Dovremmo fare un altro match. Si lancia dal paletto, liscia l'amoroso. Non abbiamo sempre incontro lui e la sua macchina. Non ha più una macchina. Se vediamo Farenz ne ha farsi un ring, lo slime d'ario Morcia. Se lo sbarro. Farenz in grande difficoltà, vediamo se lo aiuterà il dottore. Testata! La spaccata con un melone. Eh, crossline ancora. Le crossline scusami, però l'ho pronunciato troppo bene. Attenzione, intanto fare il teregish. Pugnone sulla schiena. Il solito stile rude. Era un pugnone. Gommitano. E a me sembrava un pugno. Crea ancora testata. Grande farsi. Paggo super saial. Però sto giro è già trasformato. Eh, mi sa che rimane così adesso. Si sta. Al contrario di Dragon Ball qui la trasformazione è permanente. Non è che si può trasformare tutte le volte. Lo butta fuori dal ring con un backboard. Vola fuori dal ring. Grande Farenz. Lo ributta subito su. Vuole uccidere. Gomitata al collo. Con quale cattiveria tra l'altro. Vediamo cosa vuol fare. Vertica. No, suplex diretto. Si lancia poi alle corde. Non cosa provo a fare. Un pugno alla schiena. Farenz, lo vedo parecchio incazzato dopo che non ha vinto a Moe in the Bank. Era uno dei favoriti. Come dicevi tu, agile sulle scale. Agilissimo. Non le ha mai salite in quel match, però va bene. Non abbiamo visto la sua agilità sulle scale. Era finito su un tavolo dei commentatori, impara. Si. Era lui, va? Infanto lo porta all'angolo. Cugnetti. Un altro fumo. Però Dario Mocha. E' in difficoltà. Cosa fa il dottore? Vabbè, ma il dottore l'ha preso. Ma no, Roccbotto. Ma vergogna, dottore. Ma no. Uno. Due. E tre. Vabbè, ma... Mai che il babbaro vinca onestamente. Ma non si fa così. Il dottore traisce subito Farenz appena rientrato. Ma che vergogna. Bastardo di un dottore. Vediamo cosa dirà. Ma ragazzi, lui è inguardabile su se. Dario? Ma è inguardabile. Ma deve capire. No, no, è inguardabile. Ha dei capelli bellissimi. Quel cosa ha un nome. No, no. Sembra un pitone con il ciuffo. Ed eccoci giunti al secondo mezzo della serata. Che vedrà contro il nostro Yotobi. E il grandissimo, l'immenso Frusciante. Che però ha perso mal in the bank in modo imbarazzante. Vabbè, anche Yotobi. Sì, però Frusciante. Yotobi nessuno avrebbe detto che... Cioè, non poteva vincere Yotobi. Io pronosticavo Matioski, infatti, c'ho un peccato. Doveva vincere Simeon. Frusciante, invece, poteva arrivare direttamente alla cintura senza le scale. Quindi, quindi... Oh, fiamme dall'inferno. Ok, lo vediamo incazzato oggi, anche se non è ancora arrivato. Lo vedete. Non l'ha fatto. Rosso di invidia. Il solito fumaccio nero che realtà è rosso, come detto l'altra volta. Quando è che rosso di invidia? Cosa vuol dire rosso di invidia? In Giappone, in Giappone. Sì, sì, sì. In Afghanistan. Vuol dire sta cosa. Vabbè, cominciamo a mezzo. Ad angoli... Boom. Ayaya subito, Chox, vabbè, io tovi distrutto subito. Comincia incazzatissimo, frusciante. E' finita. Oh no, la pianta o due. No, punto di due. Due incredibili. Yotobi reagisce con questa nuova felpa. E' qui ci sono. Nostro timo c'è divertito a ricreare la tire, di ring attaier di questi. Uh, crossline, a parte Yotobi. Intanto vediamo il tito fuori che si casa col pubblico. Fa ben ben. Yotobi, lo vedo casato. C'è un ciccione per il terreno. Niente, Yotobi, avrò a tre dire, se vada dal paletto. Volo anche riuscito, ma poi frusciante. Dall'altro, sui 2,50 m. E anche dall'altro, la sua sorta è fatta inizio match. Non può perdere. Più potente, ma o meno tecnico. Magari con qualche atto di furbizia, Yotobi potrebbe vincere non facendo il coglione così. E finché si casa davanti a lui, non fare le gran fumoate. Ma io, ma già. Io tengo per Yotobi. Io non posso notare che frusciante. Forza Yotobi. Vabbè, ma però se fai così, te ne va. Casi, grande ginocchiata. L'aspettacolo, ma su tutta la sua tecnica. Ma spaccalo. Io appunto su frusciante, il grosso e cattivo. Lo so, io appunto su... L'underdog della situazione. Ma vai vai vai, va beh. Vuol dire che... L'alto sulle corde. Lo alza sulle corde. Eh, bello. Sta facendo quello che vuole. Prende il braccio e lo patte per te. Dopo due mostri di Yotobi, frusciante e dominante. Legdro. Il buon vecchio legdro. Pissi. Stai facendo pure la telecroman. Liscio clamoroso ancora di Yotobi, un pugno alla testa. Agiaia, gomitate sulle spalle. Che le sente tutte. Lo butta per te. Le sente tutte. Le sente. Le sente le sente le sente. E niente, grande, Yotobi che reagisce, vuole dal palito, va a chiudere la partita. Su. Lo colpisce. Lo colpisce. Lo colpisce. No, è rompidiavambraccio. La coltiziavambraccio. È lì che... Avambraccio, si, avambraccio. Avambraccio, avambraccio. Colpisce la testa. Non farà sul paletto, incredibile. E lo prende ancora. Valla schienare. Valla schienare. Dai. Uno. Due. Non vediamo l'arbitro, ma non entra. Niente, penso fosse due. Dice due. Prova a fare un'altra mossa, lì, dopo Shanta reagisce. Belli, tu, belli accompagnati. Il tizio è un po' nervoso, cammina avanti. Però ricordiamo che il tizio è un bravo meno. Ahiaia, andiamo di quelli che ti avvengono. E ancora Chocsle. Ahiaia. E ancora Chocsle. E lo infila di nuovo per quale è distrutto con questa Chocsle. Eh, mi sa che lo prepara per la Chinecubasta. Eh, gli dice anche tu vorrei domani. Perché? Non lo sentite, invece no, la terza Chocsle. Ah, c'è a Chocsle. D'altra Chocsle. Niente, finito. Finiamo. Chinecubasta. Di Tobi mi è deluso, però. Ha cambiato... No, lo tira su ancora. Ha cambiato Luca, ancora. Tu muori domani, glielo fanno tutti. Tu muori domani. E Chinecubasta. E così diciamo addio al nostro caro Miku. Farenz è finito. Farenz è incassatissima. 1, 2 e 3. Vittoria facile per Farenz. Potevano mandare chiunque a parte Zer. Aspettavo... Zer avrebbe perso. Aspettavo un'interferenza del tizio. Magari con una powers in qualunque. Avrebbe asfaltato chiunque fra le Zer. Intanto la grafica ci ricorda il main event della nostra serata. Merluzzo che è il vero campione della WBT, non quella merda di Matioschi. E Pallon contro la merda di Matioschi e un'altra merda che è Zer. Passa a stare Zer. Come era il campione? Ha perso il titolo. Era. Io sono. Buon no. Buon no.